Ciao Anna, benvenuta a Suventi, molto contenta di averti qui perché due anni fa ci hai fatto la veste grafica insieme a Betta, cosa che nessuno sa. Come stai prima di tutto? Bene, credo. Ciao Sofì, grazie di avermi invitato. Sto bene, ho molto caldo e non ho idea di cosa stia facendo in questo momento. In questo periodo, però nella vita. Sì, è tutto completamente randomico per me. Benissimo, io ti seguo da quando ti scambiavano per Alda Merini. Esatto. Come ti senti ora che scambiano Alda Merini per te? Eh, anche questo è tutto una roba molto difficile spiegarlo. No, vorrei che mi raccontassi di questa vicenda e di come ha cambiato il tuo rapporto con internet perché mi era piaciuto molto quell'articolo che avevi scritto poi. Sì, sì, con Laura Tonini che mi ha dato una mano nella stesura. E' stato un momento effettivamente, hai molto ragione, cioè è stato tipo qualcosa da cui tutto iniziò. E' girato molto questo disegnino sul romanticismo, che non ti starò lì a dire. Già nel libro. Sì, ovvio. Iconic. E' girato molto sulla rete perché io postavo i disegnini su Tambre, una piattaforma di cui mi sono innamorata fin da subito e amo tuttora. Infatti continuo a postare i disegnini lì. E lì su Tambre è girato molto questo disegnino del romanticismo dove dice delle cose e io mi firmo come AM. Quindi queste due iniziali hanno fatto sì che non ho idea del magico mondo dell'internet mi scambiasse per Alda Merini. Quindi vai una pagina che è con la gif di Alda Merini e le rose perché parla di... ci sono le rose dentro, eh. E tant'è che a un certo punto mi ritrovo segnalata la foto di Aurora Ramazzotti che fa un selfie su questo disegnino stampato con su scritto Alda Merini sotto. Io non ci potevo chiedere. Anche adesso se lo dico, dico ma che storia è, ma ti prego. Eppure è successo e io, vabbè, allora a quel punto è ovviamente Aurora Ramazzotti e adesso non ho idea di quanti follower ha, ma prima ne avevo un po' di meno ma erano comunque molti. Allora lei è stata molto gentile perché le ho scritto e le ho detto guarda che... Eccomi qua, sono una rincarnazione. Sono a M, però non Alda Merini, ma Anna Magni, se potresti taggarmi la mia pagina, bella, grande. Lei è stata molto gentile, ce l'ha avuta anche lei molto con l'internet perché in realtà si era informata, mi aveva detto, mi aveva confidato su Indirect. Poi da lì in realtà è successo che innanzitutto la credibilità, allora adesso con il seno di poi, magari sarà successo tre anni fa, penso che fosse stata una delle prime cose che mi ha detto, ah brava Anna, perché io prima tutto ran, facevo le cose a caso, ma non che adesso non le faccia a caso. Forse adesso che ho 32 anni, un po' meglio rispetto a qualche anno fa, però è stata la prima validazione del progetto. Con un altro pseudonimo. Esatto, esatto, e è stato molto divertente, la storia è molto divertente da raccontare. Allora, noi siamo qui perché, ci pensi mai, a un certo punto i disegnini dopo essere diventati di Alda Merini sono diventati un libro edito da Rizzoli. Pazzesco. Mi interessa perché prima quando introducevi, quando hai incominciato a fare i disegni hai detto che erano l'unica cosa che nessuno ti diceva come fare. Esatto. E com'è stato invece farlo diventare un libro e quindi immagino lavorare con una casa editrice in questo senso? In realtà, dato che è una raccolta di otto anni, tanti anni, è un'epoca geologica fa per quanto mi riguarda, ho dovuto raccogliere. Quindi io sono stata chiamata per proprio questa raccolta, quindi non ho dovuto lottare, magari per le mie fisime da grafica, per alcune cose, per alcuni disegnini che sono molto affezionata, ma magari non hanno il disegno super perché sono molto vecchi, però è stato molto semplice. In realtà, per assurdo, tante volte per quando lavoro faccio molta fatica, cioè il processo creativo mi fa piangere. Non so se hai in presente il meme della bambina che piange, mentre io... Ricordo la mail che ci avete scritto con le indicazioni grafiche per 20, tipo il logo deve essere esattamente la sua distanza dal... Ricordo anche quando ci avete ripreso delle volte che avevamo sbagliato a fare delle cose. Io metto i sergenti proprio perché lì è il mio lavoro, è anche la mia passione in realtà, però ovviamente lo faccio per altri, mentre i disegni li faccio per me, quindi... ed è stato molto semplice raccogliere tutto... Cioè, per alcuni progetti, tipo il tuo è stato molto semplice, perché comunque ci siamo conosciute, piaciute, abbiamo... parlavamo la stessa lingua, tante volte ho il cliente, non parli la stessa lingua, anzi, qui tu ne vedi lì, morderti la lingua e dire sì, sì, sì. Cosa che ho sempre odiato fare, forse anche per quello che sono freelance, e questo è proprio una fuga dalla realtà, e quindi a parte il lavoro è proprio... Nessuno... Soffro, ho qualcosa che mi è successo, faccio un disegnino, così dico... Tipo, uscito. Come un diario. Esatto. Ti ricordi il primo che hai fatto? Eh, no... Neanche il primo che hai postato? Forse... Allora, contando che erano otto anni fa, quindi... 24 anni avevo. Molto, molto, molto teen ancora. Un anno in più di me. Esatto. Credo per un amore non corrisposto, ecco. Mi vergogno in realtà, forse mi ricordo, non c'è sul libro, ma mi vergogno perché pensare a me di un certo tipo di periodo, di sofferenza, di cose, mi fa un po' imbarazzare, ecco. Però sì, credo fosse per un amore non corrisposto. Ne hai uno preferito. Ti parlo da mamma, cioè... Non posso dichiararlo, forse si offendono gli altri. Ok, ok, ok. Di solito sono sempre i più recenti. Eh beh, certo, ok. No, mi piacciono i disegnini e quindi mi piace molto questo libro perché leggi delle cose che non lo sai ma ci stavi pensando da un sacco di tempo, che non lo sai ma ti appartengono tantissimo. È una cosa ricercata o è un processo naturale, casuale, che tante persone si rivedano in questi disegni che fai? Eh, quello che ha scritto IRE in maniera che mi ha fatto quasi commuovere non è la prima che me lo dice e in realtà me ne sto accorgendo adesso che hai questo libro in mano. Perché prima, te l'ho detto, è sempre stato randomico e istintivo. Quindi l'istinto, poi vabbè, potremmo parlare dell'istinto ancora mezz'ora, forse non lo so. E' qualcosa che secondo me bisogna ascoltare in tutte le sue, non esiste ma bisogna ascoltare, bisogna impararlo ad ascoltarlo. E mi ha fatto fare tutto quello che vedi lì. E quindi dove c'è istinto non c'è razzuccino, quindi io non ho idea di cosa, mentre scrivo, non ho idea di cosa scrivo. Delle volte poi, prima c'erano tante cancellature perché scrivevo e cancellavo qualsiasi cosa e poi dico ma cosa scrivo? Ti prego, e cancellavo. Poi, man mano che ho iniziato a fare queste cose, quindi ti dico otto anni fa, sono tanti, ho iniziato a avere più fiducia del mezzo di quello che stavo facendo. Perché poi arriva la validazione, sai, questa famosa validazione che tutti noi abbiamo bisogno. E quindi ho iniziato anche a disegnare forse un po' meglio, perché prima disegnavo male. Poi io non è che sia proprio brava a disegnare, cioè dire che io so disegnare è un'offesa a chi lo sa fare davvero. È proprio tutto istinto. E forse adesso con il libro mi sto rendendo conto che è il sentimento anche di non solo mio, ma di qualcun altro, perché comunque vivo nel mondo che comunque ci appartiene, siamo un po' tutti insieme. Soprattutto dopo quest'anno, figuriamoci. E quindi mi fa piacere che trovo il modo di dire qualcosa che qualcun altro pensa, cioè mi fa sentire meno sola ed è forse un po' tutto lì. Ti ricordi dei bei commenti che qualcuno ha fatto ai tuoi disegnini? Dei bei commenti? Che ti sono piaciuti particolarmente per questo motivo. Sono amiche care che vedono un'evoluzione in me nel come scrivo e nel come disegno e quindi non ti so dire parola per parola, ma mi è stato detto che è proprio incredibile vedere proprio l'evoluzione di persona che ho avuto da tot anni adesso. Il tuo diario di Anna Frank dal 2010 al 2020. Esatto, cioè è pazzesco. Poi figuriamoci anche in quarantena, eravamo tutti al gabbio, quindi c'erano tante emozioni da razionalizzare su una carta. Pazzesco. Prima hai parlato di cancellature, è una cosa, un tema che mi interessa che è la parola amore, qui dentro è molto spesso cancellata. Eh, hai capito? È sicuro, è quella. Ma chi lo sa? Io non dico niente, potrebbe essere quella. No, quindi non lo vogliamo dire. No, no, sì, è in realtà abbastanza, cioè è anche messa nell'indice lì dove dovrebbe finire. L'apostrofo amore, cancellato. Cosa ti devo parlare dell'amore? Guarda, non lo so, è che a me interessa visto che siamo su 20 e visto che so il nostro pubblico che momento sta vivendo, perché più o meno quello che sto vivendo anche io, mi è piaciuto molto il disegnino dove a un certo punto dici ho capito che per sopravvivere bisogna sposare gli amici e quindi più che di amore, che forse è troppo complicato, mi interessava molto il fatto che anche nella dedica, che è molto bella perché dici ai miei amici che sono la mia famiglia e la mia famiglia che mi ha permesso di conoscere i miei amici, ma soprattutto a me sesta che spero di essere mia amica per tanto. Quindi mi interessa molto come in realtà mi sembra che il tuo concetto di amore e di famiglia sia molto più legato agli amici che alla coppia e quindi volevo chiederti di questa cosa qua. Assolutamente sì e secondo me tra l'altro il rapporto d'amicizia è un rapporto d'amore, anzi mi fa piacere parlarne, mi fa piacere che tu me l'abbia chiesto perché vuol dire che uno forse la pensiamo un po' uguale e due il rapporto d'amicizia è amore, punto, cioè per me quello è amore. Ovviamente ci sono, perché la relazione amorosa, chiamiamola così, che su me è anche l'amicizia, però relazione standard, è una relazione folle per quanto mi riguarda perché ci sono due sconosciuti che a un certo punto diventano conoscitissimi e litigano, si amano, però in realtà sei uno sconosciuto, cioè quando io ho amato delle persone e le guardavo e dico a un certo punto, non so se a te non ti è capitato, dicevo ma chi è? Ma chi sei? Eppure siamo qua a dirci ti amo, pazzesco. Agli amici non si dice ti amo, ma bisognarebbe dirglielo perché gli amici non è che sono degli sconosciuti, sono persone che ti conosco a volte da anni, cioè io ho famiglia, l'apsus, ho amici che conosco da anni, alcuni le reputo mia sorella, cioè tipo madre mia sorella e altri proprio la famiglia, cioè se mi sento sola so dove andare, ed è il luogo sicuro, il posto sicuro dove tanti lo cercano in una relazione, mentre io mi sono resa conto che lo cerco negli amici, ho bisogno di sostegno da loro e perché l'amicizia è tutto, se dovessi fidanzarmi adesso questa persona dovrebbe far conto a tanti tanti fidanzati e fidanzate. E questo periodo in cui ci hanno obbligato a, diciamo, ci hanno obbligato a dei congiunti che non erano dei congiunti che ci eravamo scelti, ma erano quelli che di sangue ci erano vicini o ci appartenevano, come ci hai influito in qualche modo su questa cosa? L'ha resa più forte o era già... Mi è andata da Dio, mi è andata veramente da Dio e ultimamente stavo proprio pensando che nonostante sia tutto sbagliato, ma tutto, cioè ti gira una parte sbagliato, dall'altra è sbagliato, su è un disastro, in realtà in tutte queste ingiustizie noto che per quanto mi riguarda doveva andare così, quindi quando ho provato sofferenza doveva andare così, quando ho subito una chiusura di rapporto, di familiare non, doveva andare così, perché sono tutte cose che poi mi hanno permesso in realtà di stare qua davanti a te a parlarne e tanta di questa cosa c'è... Un caro saluto! Esatto! Volevo fare un caro saluto a tutte le persone che mi hanno deluso senza di voi non stare qui! Esatto! Ma proprio con la mano così facciamo, eh! Un altro tema molto bello che c'è, qui è la tecnologia, a un certo punto dici avere uno smartphone funzionante mi ha reso una persona diversa o qualcosa del genere e ora non mi ricordo bene le parole ma anche ci pensi mai che dobbiamo vivere due vite, quella che raccontiamo di avere e quella che abbiamo davvero. Esatto! Tu però mi sembra che hai un'età per cui non hai vissuto come me, tipo il liceo con Instagram, l'adolescenza con i social. E sono molto felice di questo! Sono molto felice di questo! No, no, Facebook è arrivato quando ero in università per me. Wow! Sì, 2009 credo. Che cosa è cambiato quando sono arrivati questi mezzi nuovi? Eh, allora, perché io adesso mi trovo nel momento in cui i social li uso ma anche perché devo. Però mi hanno aiutato tantissimo, devo dirti. Cioè, e io non ho, non so perché ma ho sempre questo lato un po' nerdi, ho sempre avuto questo lato qui. Per esempio ho un fratello più grande di cinque anni di più e io ero sempre attaccata a lui, che lui giocava, io guardavo a giocarlo, poi mi passava al posto, giocavo, giocavo insieme ai videogiochi, al computer, alla Playstation. Addirittura, quando ancora non c'era Windows, mettevamo i floppy, facciamo la riga di codice. Quindi mi è sempre affascinato. Poi è arrivato internet, quindi il 56K, una canzone la scaricavi in un giorno se andava bene. Sì, no no. E poi è arrivato le chat, quindi il brivido, mi ricordo ancora il brivido che ho avuto quando ho scritto alla mia migliore amica in real life, cioè nel momento stesso, proprio chatting. Perché prima c'erano le chat room, però erano sconosciuti. Quando poi è arrivato MSN, credo, ho chattato con la mia migliore amica. Per me era una roba folle, era tipo… ed era la maturità. Io la maturità l'ho fatta fino alle quattro di notte a dire quanto fossimo non preparate. Con tante kappa. Esatto, tanti sticker, tante robe. Poi sono arrivati i social. Sono molto, molto, molto affezionata all'internet, quello vecchio. Con i social in realtà mi hanno aiutato a esprimermi. Grazie a questa espressione tu hai in mano un libro. Perché ho detto, ok, quindi qua le persone dicono la propria, ok, provo. Eccomi qui. Sì, provo anch'io. Allora, poi anche il fatto di disegnare e scrivere, io ho visto su internet che potevo farlo, perché ho dei miei capisaldi della letteratura, che è italiano e dottor Pira, che lui è fumettista. Lo amo, è il mio maestro. Poi c'è Wasted Rita, che è un'artista. Non conosco. È super cinica, fortissima. E poi c'è David Shirley. Quando ho visto questa cosa ho detto, ok, si possono accostare delle parole e dei disegni. Ci provo. Forse l'ho fatto nel momento giusto della mia vita. E quindi è lì ti dico, nonostante tutte le delusioni, forse è tutto giusto così. Forse è tutto giusto che sia dell'88, che abbia vissuto internet in questo modo. E che abbia vissuto i social in questo modo. Io ti vorrei chiedere l'ultima cosa e in realtà poi auguro a tutti di tuffarsi in questo libro che io ho, vabbè, riletto stamattina perché volevo scrivere un po' questa chiacchiera e poi ho in realtà appeso sul frigo parte del libro. Qualsiasi cosa. Perché anni fa ti ho rubato delle stampe nel tuo studio. E la domanda è se potessi parlare con Anna di 20-24 anni, quando hai iniziato a fare i disegnini, che cosa le diresti? Amore, l'abbraccerei fortissimo. Sì, te lo dico con un'emozione incredibile. Un bacino in fronte, così. E ce la faremo. Grazie mille.